L'alpinismo Fare l'alpinismo in un certo senso è un modo di comunicare indipendentemente dal fatto che noi decidiamo di non raccontare, di non scrivere e di non condividere. Ovviamente social media e tutto questo tipo di cose cambiano la forma che noi alpinisti comuniciamo ma questo non ha niente con l'alpinismo l'alpinismo è ancora sulla monta, non ha niente con la comunicazione e ciò che comuniciamo è solo dopo, dopo la nostra esperienza e lo importante è che possiamo ascoltare come vogliamo ascoltare. È interessante questo momento della storia dell'alpinismo per il rapporto che ha con la comunicazione sta cambiando cosa raccontare perché le grandi vette, se si scrive il K2, il Nanga Parbat e l'Invernale sono state conquistate quindi forse la grande sfida dal punto di vista della comunicazione è far capire al grande pubblico che ci sono tante cose difficili e importanti che gli alpinisti fanno e che vanno raccontate. È chiaro che va di moda il Grande Fratello oppure l'Isola del Tesoro le di famosi, ma si può creare attenzione della massa l'attenzione della massa quindi di tutto il popolo lo si può creare anche parlando di montagna si usa la montagna come informare, divertire la gente informare, fare cultura, fare divertimento, fare intrattenimento parlando di montagna. Raccontare significa far rivivere le cose, i soggetti raccontati c'è chi dice che non esisterebbe niente senza la parola se non c'è un nome le cose non esistono in fondo la parola è in un certo senso come una sorta di bacchetta magica che dà la vita, che scocca una scintilla vitale a ciò che si racconta Oggi l'alpinista di prima classe è costretto per gli sponsor di comunicare direttamente, significa raggiungere la cima e il giorno dopo abbiamo tutti sul giornale o nel blog internet quello che è successo. Le notizie di oggi vivono due giorni e poi sono andati e mi dispiace per i giovani alpinisti che hanno molto più difficoltà a posizionare un libro o delle conferenze mezz'anno dopo la loro salita perché nel frattempo ci sono altri che salgono e mandano tutti i giorni le notizie sulla bufera, sul successo, sul fallimento o che cosa sempre è un'altra un'altra